Eneba e io vogliamo farvi un super regalo. Partecipare al giveaway è semplicissimo. Scorrete sotto nella descrizione del video e cliccate il primo link. Andate successivamente nel sito di Eneba.com e acquistate almeno un prodotto. Il 24 febbraio verranno scelti 4 vincitori che riceveranno dei buoni regalo da spendere all'interno del sito. Buona fortuna! Oltre al giveaway ragazzi vi consiglio comunque di dare un'occhiata a Eneba.com perché all'interno della loro libreria ovviamente troverete dei giochi, abbonamenti, ricariche per tutte le console a dei prezzi veramente super fantastici. Non mi stancherò mai di dirlo, veramente ci sono dei prezzi che sono super bassi se non i più bassi del mercato. Quindi vi ricordo tutti i link in descrizione e ovviamente con i codici di Jan avrete diritto ad un ulteriore sconto. Fatemi sapere i vostri acquisti, questo è il periodo migliore perché potreste vincere anche dei buoni regalo grazie al giveaway. Quindi passateci tutti i link in descrizione e fatemi sapere cosa acquistate. Bene ragazzoli dopo questa piccola breve intro vi voglio raccontare di questa mia esperienza all'interno di un poligono di tiro dove ho provato ben 4 armi, possiamo definirle così stile Warzone. 4 armi ovviamente super vere al 100% proiettili verissimi ed era la prima volta che appunto sparavo. Ho provato una pistola, un M4 e due cecchini. Abbiamo potuto registrare ovviamente non ho sparato tantissimo, siamo stati lì un pomeriggio io ho appunto soltanto provato ed è stata veramente un'esperienza fantastica che consiglio di fare a tutti quanti ovviamente seguiti da persone competenti ma soprattutto in luoghi sicuri come possono essere appunto i poligoni di tiro. La scorsa estate ho pubblicato su Instagram una clip dove sparavo con un fucile al cecchino. Per chi non mi segue link in descrizione anche per Instagram. Mentre pochi giorni fa ho detto ma perché ragazzi non vi ho mai raccontato a voi su YouTube che siete appunto il pubblico maggiore che io ho all'interno dei social perché non vi ho mai raccontato l'esperienza che ho fatto perché è stata un'esperienza fantastica molto dispendiosa perché fate conto 50 colpi di M4 costano 20 euro e sono quelli più economici diciamo. Ovviamente se vuoi colpi speciali vanno sempre maggiorando ovviamente i prezzi non ci prendiamo in giro è veramente uno sport super super costoso bellissimo ma appunto ci spendi veramente tanto. Uno dice beh minchia 50 colpi 20 euro 50 colpi raga li finite veramente subito. Essendo fighissimo sparare ovviamente dopo vi racconto tutto il feeling che ho provato perché era la mia prima volta. Essendo comunque bellissimo però veramente 50 colpi su un M4 secondo me tempo 10 minuti sparando lento prendendosi qualche pausa un caffettino li hai finiti ok. È stata un'esperienza fantastica ho iniziato ovviamente dalla pistola che era una pistola beretta apx ed è una calibro 9 e uno dice beh è una pistolina no ragazzuoli. Ora vi faccio vedere anche la clip ovviamente è un cazzo di cannone raga. Dopo vi faccio il paragone tra la pistolina l'M4 e i cecchini però vi giuro raga ti dà un rinculo essendo che tu la devi impugnare ovviamente solo con le mani non c'è il calcio non c'è niente. Ti dà un rinculo fantastico un'emozione veramente unica è stato bellissimo forse la pistola è quella che mi ha divertito di più o forse no anche beh non vi spoilero troppo. Comunque ti dà quel rinculo di praticamente cercare di compensare tutto quanto è una figata veramente assurda. Quando ho sparato una decina di colpi con quella pistola sono passato all'M4 M4 ovviamente colpo singolo perché come si sa in Italia non si possono ottenere fucili a rafica. E nulla col calcio con l'ottica veramente è una figata una passeggiata anche quella là ovviamente c'è un bel rinculo infatti lo si vede anche dalla clip che comunque tira delle belle cannonate. Sembra che sia calibro 5 56 non lo so non cazzatevi vi prego non sono super informato su queste cose. Una fottuta M4 davvero fighissima magari uno dice beh allora com'era il feeling riuscivi a prendere tutti i centri cosa si riuscivo bene o male a prenderli però se io mi dovessi immaginare una situazione come su quello of duty minchia non prenderei il bersaglio manco a pagarlo ve lo giuro. Con quel rinculo là ricomporsi dopo uno sparo è veramente difficile ovviamente occorre molto allenamento io essendo la prima volta non sarei mai riuscito a prendere un bersaglio in movimento questo sicuramente. Quindi anche M4 fighissima essendo che forse è attaccata al corpo con il calcio e tutto quanto il rinculo un po' più controllabile rispetto alla pistola forse diverte un po' meno e quindi forse mi sono divertito un po' di più utilizzare la pistola. Però passiamo a parlare dei cecchini i cecchini erano calibro 308 quindi un bel siluro che vuol dire ovviamente un super rinculo. Ero molto spaventato perché un mio amico mi ha girato questa foto che se riesco ve la metto questa foto cosa raffigura raffigura il suo primo colpo con un cecchino come potete vedere si è aperto praticamente la fronte con il rinculo che gli ha dato. Quindi potete immaginare la mia agitazione già ero molto agitato perché comunque tenere un'arma in mano reale soprattutto le prime volte psicologicamente non è facile. Un'arma del genere potenzialmente può fare dei danni che non avete idea e per questo che vi dico fatelo solo se in presenza di persone che sono competenti che sanno. Nel mio caso diciamo mi hanno dato due dritte non sono stati lì a spiegarmi bene come impugnare per ovviamente essere preciso eccetera. Io dovevo solo fare due spari due colpi per provare il feeling poi magari in futuro mi scriverò qualche corso non lo so però per ora il mio era proprio mettiti qui sta in sicurezza spara due colpi e basta. Infatti tutte le impugnature che vedete come modo di tenere un'arma eccetera sono tutte sbagliate e lo so. Bene il primo colpo di cecchino che ho sparato è stato con un Benelli lupo che esteticamente è veramente una figata. Non so se c'ho la clip comunque cercherò di mettervi qualche immagine qualcosa. E minchia raga tira una stecca sulla spalla che torna a casa distrutto veramente cioè ti tira se non sei posizionato bene appunto ti sloga tutto quanto ed è per questo che vi consiglio ovviamente di stare molto attenti con queste cose. Ovviamente avendo visto la foto avendo visto l'esperienza passata di questo mio amico io sono stato tipo a 7 chilometri di distanza dall'ottica e non ho preso minimamente il bersaglio. Stessa cosa quando ho provato il Remington avevo una paura bestia il rinculo più o meno è uguale a tutti e due i fucili uguale intendo all'altro cecchino. Non ho sudato lo giuro. E diciamo quello scenario è stato pressoché invariato rispetto al colpo fatto con l'altro cecchino avevo un botto di paura ho messo 70 anni per decidermi a sparare. Il bersaglio forse l'ho preso proprio in basso a sinistra era a 200 metri bisogna dirlo molto difficile per uno che non ha mai sparato forse l'avevo preso però non ne sono sicuro quindi non vi dico nulla. Sti cavoli ragazzuoli allora un'esperienza fantastica ovviamente vi lascio tutte le clip vi faccio vedere le armi che ho provato. Sparare raga è veramente bello ci vogliono un mucchio di soldi quello sì perché questi fucili costano veramente un botto anche una semplice pisola comunque costa moltissimo. Se questa tipologia di video potrebbe piacere magari quest'estate potrei pensare di fare di organizzare altre giornate e di portarvi qualcosa di più dettagliato qualche altro video. Insomma fatemi sapere se questa tipologia di video vi può piacere visto che è un periodo dove Warzone non mi sta proprio coinvolgendo così tanto. Ho deciso di fare questa sorta di commentary dove appunto vi raccontavo questa mia giornata al poligono di tiro dove ho sparato con delle armi fottutamente vere. È veramente bellissimo ragazzuoli ci tengo a precisare un'altra cosa io non tengo armi in casa non ho armi ed è soprattutto per questo che vi rinvito a fare queste cose solo se in presenza di persone competenti che possono darvi comunque un'indicazione per non farvi male. Faccio un esempio per cambiare bersaglio ci sono delle una scaletta da seguire bisogna abbassare delle tende bisogna annunciare in quanti si cioè è abbastanza complesso bisogna sapere quello che si fa. Perché lì veramente non si scherza si sta utilizzando un equipaggiamento potenzialmente mortale che può uccidere con quei cazzo di bossoli che ci sono ragazzuoli veramente basta poco basta poco sbagliare e combinare un grosso casino quindi io vi invito veramente a non fare cavolate. È bellissimo e se avete l'opportunità io vi invito a provare anche voi ma mi raccomando testa sulle spalle perché di vita ce n'è una ed una soltanto a meno che voi non crediate in qualche altra cosa però non importa ragazzuoli. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se magari quando arriva un pochino torna il caldo se vorreste altre tipologie di questo video magari un po' più dettagliate proprio magari un vlog in quell'ambiente nei limiti del possibile ovviamente fatemelo sapere qua da giorno è tutto io vi saluto bella ragazzi.